Ciao ragazzi, ben ritrovati sul mio canale YouTube, ora in vista del weekend che molto probabilmente sarà senza promo, quindi senza eventi in attesa dell'evento mondiale in arrivo fra una settimana, possiamo nuovamente fare movimenti legati ai CPS di categoria, quindi ai FOD. Prima di partire vi faccio vedere l'ultimo arrivo, la maglietta super super figa del Messico, guardate che figata, queste e tante altre maglie le trovate su fcmaglia.com, link in descrizione, trovate spedizione gratuita per ordini superiori a 69€ e 10% di sconto usando il coupon LUCCO, queste e tante altre divise super fighe. Allora, come accennavo poco fa, in weekend teoricamente non abbiamo nessuna promo, che significa? Significa che non ci saranno spacchettamenti, ci saranno soltanto sfide creazione rosa in arrivo, fra cui abbiamo i già liccati Higuaín fine di un'era, che presumo possa arrivare tra venerdì e domenica, abbiamo Lewandowski Potm, che credo arrivi venerdì, e poi magari l'arrivo di una nuova sfida aggiornamento, magari Icon o Heroes, magari un 85 più Team of the Week, o magari un 85 più generico, o chissà quale altra sfida giornaliera si inventa gli esports, poi magari un flashback, un moments, tutto questo generalmente viene fatto per preparare il mercato ad un grosso evento. Quindi è molto probabile che, con la mancanza di spacchettamenti e con tante SBC potenzialmente interessanti, possa esserci un notevole rialzo delle categorie. Quando comprare fra oggi pomeriggio, stasera, massimo domani, perché poi sarà più difficile trovare i prezzi consigliati, la rivendita sarà teoricamente tra lunedì e martedì, perché i esports ci ha abituati nelle ultime settimane in questo modo. Ciò non toglie che possiamo mantenere anche le card fino a giovedì e venerdì prossimo, perché sono in arrivo anche tra mercoledì e giovedì il POTM Serie A e venerdì prossimo il POTM Premier League, quindi potenzialmente altre sfide interessanti. Questi sono i prezzi attuali. Partiamo dal presupposto che le categorie che mi interessano sono 84, 86, 87 e 88. Evitate come la peste gli overall 85, perché notevolmente inflazionati dal Team of the Week garantito 85+. Le categorie vanno prese, come dicevo, fra stasera, sfruttando gli spacchettamenti degli incontri principali, stanotte, quando c'è meno gente online, entro domani, perché poi difficilmente troveremo prezzi consigliati. 84 va bene sui 2100-2200, se proprio proprio non riuscite, il 2003 va benissimo. Gli 86 sotto i 13k sono prezzi molto interessanti. Vi ricordo sempre che va bene qualsiasi giocatore di queste categorie. Cioè non cambia prendendo Chesny, Trapp, Laporte o Thiago Silva parecchio, Marez, così come Martinez, Mertens, Suarez o Ben Yedder, Rice o Bastoni. Per quanto riguarda le categorie 87 e 88, i prezzi già sono discreti. Gli 87 diciamo che sotto i 17k va bene, ma è facile spesso e volentieri trovare anche prezzi sotto i 16,5k circa. Gli 88 direi sotto i 22k. Chi prendere di queste categorie? Beh, giocatori semi-gameplay. Quindi giocatori che sono utilizzabili anche nel gameplay. Quindi Alexander-Arnold, Robertson, De Gea-Joris, Mike Nan in primis. Come 88 il migliore senza ombra di dubbi Ter Stegen. Poi abbiamo Bernardo Silva, abbiamo Donnarumma e Modric. Ma ripeto, tendenzialmente va bene qualsiasi giocatore, perché non essendoci un requisito di intesa nelle sfide di valutazione più alta, va bene chiunque. Però è sempre meglio mixare, diciamo, una card semi-gameplay ad una carta che può essere un C-pest di categoria. Tutte le card in questione vanno già flippate nell'immediato. Mettete un più 15 o 20% rispetto al prezzo di acquisto e listate ogni ora. Rivendita, come vi ho spiegato, nell'arco dei prossimi giorni. Tutto dipende dai contenuti in arrivo. Ma non abbiamo fretta, abbiamo tempo fino a settimana prossima, una settimana circa. Gli 84 potete mettere in vendita più 7-800 crediti. Anche qua il prezzo a cui arriveranno le card varierà in base ai contenuti in arrivo. Ma sono ben disposto nell'aspettarmi un rialzo delle categorie per i motivi di cui vi ho spiegato in precedenza. Non dimenticate di lasciare un like al video, iscrivervi al canale YouTube se già non l'avete fatto. Lasciate un follow alla mia pagina TikTok nata da poche settimane, perché come vedete ci sono tanti, tanti, tanti contenuti super interessanti. Ci vediamo alla prossima, al prossimo video ragazzi. Grazie per l'ascolto di visione e un saluto. Ciao! Grazie a tutti!